Quest'anno, grazie al Comune di Caviglia, grazie alla misericordia di Ambra, grazie ai comuni di Piave Torina, Muccia, ci è stata data l'opportunità, perché è un'opportunità per noi volontari, di andare nelle zone terremotate a portare questo progetto Oxy, che qui da noi ha funzionato benissimo, è un bellissimo progetto. Però per noi volontari riuscire ad andare anche nelle zone terremotate con questi bambini ci fa molto piacere, è un'opportunità per noi e non per loro. A Capiglia quando si terrà? A Capiglia si terrà il primo giugno alla pista ciclabile Bello Sguardo, faremo un incontro con tutte le associazioni istituzionali e di volontariato addirittura della regione toscana, perché verrà anche il gruppo cinofili della regione toscana e i bambini avranno la possibilità di fare le domande a tutti i corpi di polizia, a tutte le associazioni di volontariato per fare una giornata di festa.